Quest'anno ci siamo perché noi ci siamo nelle scuole Argo e Casa e Scuola, fondamentalmente con tre punti salienti. Le ultime applicazioni che abbiamo rilasciato, l'app unica, la versione web di emolumenti, la nuova piattaforma per la formazione digitale, strutturata per brevi unità formative che è Argo Campus e supportare le scuole su tutte quelle che sono le misure del PNRR relative sia alla migrazione al cloud, quindi la misura 1.2 che la misura 1.4, quindi per realizzare dei portali che siano funzionali e siano soprattutto integrati a tutte le nostre soluzioni.